Universo Me è un nuovo portale di informazione dell'Università di Messina, un importante volano di comunicazione per tutti gli studenti. Come procede? Siete operativi da oggi, a pieno regime da oggi? Sì, dunque siamo partiti in fase sperimentale da dicembre 2015, sia con la radio che con il giornale. Da oggi partiremo appunto alla conferenza stampa e presentazione a pieno regime. Ringraziamo per questo l'amministrazione dell'Università, il magnifico rettore e l'ufficio stampa, e tutti gli studenti si sono impegnati perché questo fosse realizzabile. Ci sono state molte richieste perché partisse questo progetto. Al momento da quante persone siete seguiti? Dunque, in questo momento abbiamo circa quasi 2000 like sulla pagina Facebook, abbiamo anche un profilo Instagram attivo, il profilo Twitter, e l'account speaker per la trasmissione radio, che ha circa 3500 accessi. Abbiamo circa una trentina di collaboratori in tutto il progetto, e stiamo chiaramente continuando a cercare collaboratori sia come speaker che come scrittori. Chi vuole avanzare le richieste per la collaborazione cosa deve fare? Deve scrivervi via mail? Sì, può cercarci sulla pagina Universo Me su Facebook, oppure mandare un'email a universomessina.com C'è una curiosità particolare? Come è nato il progetto? Cioè l'idea principale, un aneddoto che ci puoi raccontare? Dunque, il progetto è partito da quest'aula, in quanto in questa sala, perché vi sono state già numerose richieste a parte delle più disparate componenti studentesche. e a un certo punto queste richieste sono state unite, aggregate, fino a creare il prodotto finale.